Buongiorno, sono Ignazio Vagnone, direttore commerciale per Presonus Europa. Abbiamo fatto, siamo molto contenti di aver partecipato a Audio Forum perché è una manifestazione molto focalizzata dove non siamo noi che parliamo a un pubblico, ma siamo noi che interagiamo con i system integrators ai quali noi ci stiamo avvicinando in maniera forte proprio per una nuova generazione di prodotti che abbiamo. Sono di fatto il nostro primo passo in questo mercato, quindi l'obiettivo del nostro intervento era di dimostrare come l'integrazione non avviene solo a livello di componenti che costruiscono un sistema, ma deve partire più indietro, deve partire a livello di una progettazione mirata all'integrazione tra i singoli componenti dei singoli prodotti che poi diventano sistemi. Come dire, superare il concetto di semplice compatibilità per arrivare al concetto di integrazione che è quello che offre il valore aggiunto all'installazione. Devo dire che il pubblico è stato molto attento, domande molto interessanti, molto appuntite se vogliamo e crediamo che il messaggio sia passato, quindi crediamo che la nostra visione, il nostro progetto sia stato apprezzato, quindi in generale il giudizio sulla manifestazione è molto molto positivo e ci risaremo alla prossima edizione.